E' bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di GTA 5 online Aspè che mi preparo le armi, qua c'è subito uno E comunque quando arriveremo a 10 iscritti farò lo speciale con i miei amici Ovviamente in V non so quanti saremo Vabbè comunque aspetta qua che c'è subito uno No sta andando Dov'è? Dov'è eccolo No sta andando Oh oh No Vediamo se c'è un motor Comunque quando troverò l'occasione Quando troverò l'occasione Farò un video dell'amore ai lobby Che in pratica è qualcuno che mi fa cadere i soldi Vabbè comunque questo qua è eccolo Eccolo Oh un amore Un amore Colpo mio Eccolo Io uso una moto Una macchina Sequestrato Allora Meccanico Respawnato E' un fleiter Scusa in passiva Chiamiamolo La macchina Anzi adesso penso proprio di fare un training faciliti E ci rivedremo quando l'ho avviato Bella Ok rega faremo uno contro uno Compriamo tutte le mani insieme di nuovo Però ho sbagliato Che ho avviato uno contro uno Che intanto stavo vedendo il video di Di uno youtuber Tanto credo che questo è il mio amico E' il rango 102 Nooo Eh vabbè Ok dai adesso mi impegni No ma perché Mi mira Dov'è 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 A camperare A camperare E vai Dov'è Dov'è Non lo so Ops Eh vabbè Scusate Adesso non parlo perché mi sto ancora Concentrando Se parlo poi mi concentro Vabbè No mi sono suicidato Se parlo poi mi sono suicidato Adesso lo devo Sare Dov'è Non lo vedo Dov'è Dov'è No No Mamma mia Porca mia Veria Ma avete visto Mamma mia Vabbè Sono rotta adesso Sono rotta Non ho più vita però No A che di solo non ho più più vita No 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 Lo avevo visto No 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 Ehi Dai Sui di una cronola Grazie a tutti. Dov'è, no? Ah, no, oh mio Dio, mi è passato un lancianazzo a fianco. Ok dai, sto recuperando. Anche lui è forte, credo anche che mi ami un po'. Oh mio Dio. No! No. Stavo pure per prendere la minra. No, adesso sta la romperà, eh? No. 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 Mio Dio, rega. Ma ci sono i miei cugini, sono incastrato da qualche miseria, vai, vai, dai, perché si mette a camperare, non posso perdere così, non posso perdere. Ma no, 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 dai che innappo che sono, dai. Ok, mamma, perché sto facendo proprio cagare. Spana, spana a fianco a me, dai. Adesso si mette a camperare. Oh! Dai, gli scegli io, perché mi ruba, no, 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 no. 50 secondi, non corro 50 secondi, non posso. no no non posso no non posso sono scemo sono scemo questo l'ho persa questo l'ho persa dove sta andando e non l'ho beccato e che dire per oggi è tutto e ci vedremo ma possiamo vivere tutti a 5 anni beee